Oggi l'Istituto Munari ha scelto di offrire ai ragazzi e alle ragazze una occasione di conoscenza di un continente così martoriato come l'Africa più diretta. Ha scelto di farlo attraverso le musiche, le danze, le attività sportive. Io vorrei ringraziare innanzitutto i docenti e le docenti dell'Istituto Comprensivo, le associazioni di volontariato, l'Istituto Luxemburg, naturalmente la parrocchia Serradio. Grazie a tutti! Grazie! 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 Grazie!